Vengono delle richieste concrete dal nostro territorio e in particolar modo dalle associazioni di categoria ma che sono state supportate anche dall'organizzazione sindacale, ossia una scelera di convocazione unitaria del tavolo della moda, il cogliere le specificità del Valdarno perché magari i codici a te a volte non danno la rappresentazione di quella che è la realtà dei fatti. Qui c'è una filiera produttiva completa del settore moda che occupa tantissimi nostri concittadini. Erano queste le richieste pervenute dalle istituzioni locali e dalle associazioni di categoria del Valdarno a Retino sottoposte agli assessori regionali Leonardo Marras e Alessandra Nardini nel corso dell'incontro a Terra Nuova a Braccialini con al centro il tema della crisi del comparto della moda. Un appello raccolto adesso dalla regione toscana, il presidente Eugenio Gianni infatti ha disposto la convocazione del tavolo di confronto per lunedì 18 novembre alle ore 9. Tra le proposte la cassa integrazione in deroga per tutte le imprese appartenenti alla filiera della moda, gli interventi sul sistema bancario per garantire maggiore liquidità per sostenere le aziende e l'attuazione di strumenti atti a garantire la trasparenza dell'intera filiera. La cassa integrazione in deroga sicuramente è uno strumento per affrontare l'emergenza ma come ribadiva l'associazione di categoria tutti dobbiamo fare pressione sui livelli apicali perché le banche devono fare la loro parte perché c'è bisogno di liquidità rispetto a aziende che stanno attraversando momenti di difficoltà per supportarle. Questo è sicuramente lo strumento concreto più urgente e più impellente invece nel medio-lungo periodo ribadiamo la necessità del cosiddetto passaporto digitale perché permette effettivamente di avere contezza di qual è l'intera filiera produttiva e di adottare degli strumenti concreti per poterla tutelare nella maniera più adeguata.